Potrebbe essere passionale il movente che ha scatenato la violenta aggressione in pieno centro nei confronti del trentenne Jesus avvenuto a Fano poco prima delle 17 di ieri. Dopo l'arresto nella tarda serata dei due aggressori per tentato omicidio e lesioni gravi emergono particolari da cavalleria rusticana sul violento fato di sangue che ha trasformato via Arco d'Augusto in uno scenario dal regolamento di Conti. Era la risposta che dovevamo dare a tutti insomma al fatto proprio perché grave, cruento, violento, di sangue in pieno centro storico alle 5 del pomeriggio con tantissimi passanti presenti e proprio anche grazie alla collaborazione dei testimoni, dei passanti che ci hanno permesso insomma di attivarci all'istante. All'istante siamo riusciti a identificarli e a trarli in arresto anche grazie alla collaborazione dell'Arma dei Carabinieri che in tutte le operazioni di polizia che si avvengono in questo territorio comunque la collaborazione tra di noi è fondamentale per la garanzia del controllo del territorio e della sicurezza generale di tutto il territorio. Conoscenza del territorio, grande professionalità, vi ha permesso di muoverevi in brevissimo tempo sapendo subito dove andare a ricercare. Sì, questo è un po' il segreto del nostro lavoro grazie anche all'esperienza dei nostri investigatori, del posto, dell'attività sia della squadra investigativa, della squadra volante e ripeto anche la collaborazione con le altre forze di polizia, l'Arma dei Carabinieri è tutto un insieme di fattori che veramente poi porta a questi risultati. Nel giro di poche ore quindi chiuso il cerchio attorno ai due, un 21enne ed un 22enne italiani residenti assieme alle famiglie nel territorio tra Lucrezia e Tavernelle che con la polizia alle Calcagna ha capito che ormai avevano le ore contate. Ieri sera hanno pensato bene di presentarsi spontaneamente nella vicina stazione dei Carabinieri di Colli al Metauro per non aggravare la loro posizione già di per sé pesante. Ora aspetta gli inquirenti verificare e approfondire questo movente che ha reso questa aggressione così feroce e cruenta. Uno dei due sembrerebbe aver trattenuto Jesus mentre sotto gli occhi della sua ragazza l'altro lo colpiva per punirlo di non si sa quale colpa, visto anche il chiaro intento di sfregiarlo colpendolo al volto e ferendolo gravemente alla mano e dal polso. Ferite profonde per le quali il malcapitato è stato sottoposto nella tarda serata di ieri dopo il suo arrivo al pronto soccorso di Pesaro ad un intervento chirurgico d'urgenza. Ora i due arrestati in flagranza di reato sono costretti nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro a disposizione dell'autorità giudiziaria.